Ciao bambini, sono la maestra Barbara. Ora vi leggerò questo libro che si intitola Un mare di tristezza. Un giorno, in fondo al mare, un pesciolino si sentiva triste e sconsolato. Decise allora di fare una bella nuotata per tirarsi sul morale. Incontrò dapprima un altro pesce, ma era triste, almeno quanto lui. Fu poi la volta di una medusa, ma era decisamente giù di corda. Proseguì allora la sua nuotata e incappò in un branco di sardine, ma erano tutte affrante dalla prima all'ultima. Andò a sbattere contro un calamaro, ma era mesto come non mai. E si trovò di fronte a un pesce palla, che era inspiegabilmente abbattuto. Incontrò quindi una sogliola afflitta. Una triglia abbacchiata. Un rombo mogio-mogio. Un nasello senza speranza. E quasi alla fine della sua traversata, un gruppo di pesci pagliaccio davvero desolati. Ma perché sono tutti tristi in questo mare? Domandò il pesciolino a una tartaruga, che se ne stava lì, stranamente capovolta. Nessuno è triste qui, rispose la tartaruga. Sei tu che sei sotto sopra. Proviamo a vedere. Adesso sì che sono felici! Anche i pesci pagliaccio! Anche il nasello! E il rombo! E la triglia! E la sogliola! Anche questo pesce palla! Anche il calamaro! E queste sardine tutte felici! La medusa che sorride! E il suo amico pesce giallo! Ora, anche il nostro pesciolino è felice! Basta cambiare il nostro punto di vista! Ciao!